Boom di visitatori al Palazzo Ducale di Genova per la mostra Viaggio intorno all'uomo del grande fotoreporter americano Steve McCurry. Oltre 200 fotografie, alcuni inedite, compongono la mostra che raccoglie anche i più celebri scatti degli ultimi 30 anni del fotografo di Filadelfia. Intensi ritratti, paesaggi mozzafiato raccolti ai quattro angoli della terra creano un percorso espositivo ricco e pieno di suggestione, come spiega Massimo Sorci di Palazzo Ducale e Fondazione per la Cultura. Ci sono i ritratti che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, a partire appunto dalla ragazza afghana, però ci sono anche molte foto di guerra, foto di paesaggi, all'interno del quale però l'uomo è sempre protagonista. Volti di bambini e di donne, ma anche pastori, guerrieri e lavoratori che raccontano tutta la drammaticità della guerra e la precarietà dell'esistenza, ma sempre con estrema dignità. La mostra, nell'allestimento di Peter Bottazzi, è aperta fino al 24 febbraio 2013.